Una squadra cambisce i primi posti in Liga, qui lo vediamo. Poi ci sono state anche le parole di Lukasz Leiva, che ha ammesso che potrebbe lasciare proprio a gennaio il Liverpool, perché non ha trovato lo spazio che pensava di trovare. Invece Condogbia è stato nominato come il bidone del 2016, perché ci sono anche questi premi. Sapevi Carlo che c'era anche questo calcio bidone, che è una classifica che giunta all'ottavo anno, fa abbastanza ridere, però ha raccolto 6.000 voti o qualcosa di simile. Sì, a furor di popolo è stato votato, anche perché lo sappiamo che il rapporto tra... I suoi predecessori chi sono stati? Guarda, guarda, adesso... E che è una bella vetrina. L'anno scorso, anche Adriano... No, questa è la classifica di quest'anno, quindi abbiamo Condogbia, Secondo Hernanes, Terzo Morrison, Montoya, Luisa Adriano, che se ne va in Russia, Felipe Melo in Brasile... L'imperatore. L'imperatore, Adriano, l'imperatore. Sì, 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 sì. L'anno scorso lo prese, se non sbaglio, i turbe. Eh beh, sì, ci sta. I turbe, l'anno scorso lo prese i turbe. Vabbè, quindi questo sostanzialmente è il calcio bidone di quest'anno. Poi? Abbiamo altro. Vogliamo leggere qualche domanda da casa?